Nel CSPA Anodizzazione presenta nella propria gamma base i colori classici, in effetti opachi chimici e in effetti spazzolati meccanici ARS. I toni vanno dal silver, allo champagne, al bronzo, ai bruniti, al nero e allo stainless steel, l'effetto acciaio. Il silver è molto utilizzato nei profili tecnici, colorazioni bronzo o bruniti, moltissimo nell'interior design e nell'architettura. Il nero è il principale colore utilizzato nell'illuminazione. Prendiamo ad esempio la finitura 3B ARS dal lato spazzolato e dal lato opposto, dal lato opaco chimico. Nel CSPA Anodizzazione presenta nella propria mazzetta base anche un esempio di sabbiato micropallinato e un esempio di L lucidato antigraffio. Lo stesso codice in versione opaca e con l'effetto antigraffio si presenta più lucente ma sicuramente con una resistenza all'abrasione più elevata. I designer e gli architetti scelgono l'anodizzazione di Netsha SPA in quanto l'effetto è molto fine e non ha nulla a che vedere con semplici trattamenti come la varniciatura, sia in termini di raffinatezza che di design. L'anodizzazione di Netsha SPA viene scelta per l'eccellente durata nel tempo e per questo utilizzata tantissimo negli esterni in tutti gli edifici. L'anodizzazione di Netsha SPA